Come è una decisione politica? Abbiamo chiesto a tutti un gesto opportuno di affetto al partito e di passo indietro, alcuni l'hanno fatto, oggi l'abbiamo chiesto con forza anche a Nicola Cosentino, questo non è un giudizio di condanna, anzi troppo spesso si viene condannati dal circolo mediatico e non nei tribunali, però è il segnale forte che noi vogliamo dare anche con le candidature che abbiamo presentato, che oggi abbiamo comunicato, che il PDL si vuole candidare con forza a rigovernare il Paese, con una classe dirigente che viene dalla società civile, dai parlamentari, i nostri capilista, le donne, gli imprenditori e quindi ci sembra sia fatto un buon lavoro.